cosa facciamo questa mattina? niente facciamo le stronzate più pazze del mondo osservate ragazzi come una ragazza intelligente può diventare 5 secondi una ragazza deficiente ragazzi seguiteci e commentate ragazzi che figola di merda la gente si sta guardando ragazzi però dovete osservate la direzza aspettate ora è te bene ragazzi mi raccomando commentate queste pazze si fanno una volta soltanto e non si possono nemmeno vedere io mi presto a fare queste cose aiuto ragazzi ok? dai dai seguitici 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 con le cazze di merda a macchina a macchina stiamo facendo una grandissima figura di merda con la gente che si sta guardando ma tutto questo lo facciamo solo per voi c'è Gilda che si guarda alle biti e sinceramente ecco volete dire qualcosa mi stiamo guardando io mi vergogno per voi bene ragazzi noi stiamo andando a pranzare salutiamo i nostri amici di facebook commentate ragazzi commentate che figo di merda che figo di merda